Installati più di dieci anni fa i pannelli solari che sormontano i tetti delle palazzine Ater del quartiere annunziata di Giulianova non sono mai stati attivati perché mai è stato installato l'impianto di cogenerazione che avrebbe dovuto far funzionare il sistema che avrebbe garantito un notevole risparmio in termini energetici per le famiglie che vivono in questi alloggi. L'impianto avrebbe prodotto energia elettrica e acqua calda, sono passati ben 12 anni dall'installazione dei pannelli e da allora non sono mai entrati in funzione. Un investimento di oltre 5 milioni di euro letteralmente inutilizzato. La situazione peggiora perché le caldaie che avrebbero dovuto essere alimentate dal nuovo sistema oggi completamente obsoleto si sono nel frattempo danneggiate. Gli abitanti del quartiere avevano già in passato sollevato il problema e più volte hanno chiesto l'attivazione dell'intero impianto. I pannelli saranno sicuramente tutti sopra con l'acqua depositata quindi non saranno buone più. Le caldaie che ci hanno messo dentro i balconi, dentro gli appartamenti sono tutte arrugginite e in più pertevano sempre l'acqua. Questi soldi, questi 5 milioni non si sa dove sono andate a finire. Praticamente l'Ater dice che ce l'ha il Comune, il Comune dice che ce l'ha l'Ater, fanno scarica barile e qua non si risolve mai niente. Sono trascorsi quindi 12 anni da quei lavori finanziati dal Ministero delle Infrastrutture. Un'opera incompiuta e che a quanto pare sarebbe inutilizzabile perché adeguare oggi il sistema alle nuove tecnologie avrebbe un costo non di poco conto. Converrebbe quindi realizzarne uno completamente nuovo e di ultima generazione. Nel frattempo i cittadini non hanno avuto alcun risparmio energetico. Non abbiamo risparmiato niente perché non ce l'hanno mai collegato. Una volta diceva che è colpa dell'amministrazione perché non sapevano il posto dove mettere la centrale. Un'altra volta dice che sono stati cittadini che non volevano sta centrale perché faceva rumore. Però io secondo me il rumore non credo che sia tanto fastidioso per mettere sta centrale. Soldi pubblici investiti male dunque, anzi malissimo. Comune Ater in passato si sono rimbalzate le responsabilità sulle procedure da adottare per attivare gli impianti. Senza l'installazione del congeneratore tutto è rimasto fermo ed oggi i pannelli e le caldaie cadono a pezzi.